Ciao, benvenuta in questo nuovo video per sfogliare insieme il nuovo volantino del Lidl e queste sono le offerte che partiranno il 2 ottobre e dureranno fino all'8 ottobre. Come sempre, vediamo in prima pagina le offerte Parkside con il nostro ormai abituale Ardon Schwarzenegger, ormai abbiamo capito che le offerte Parkside probabilmente ci accompagneranno per sempre, va bene. Iniziamo con le varie offerte. Allora, ci sono le carote, un chilo la confezione a 1,09 euro, i filetti di pollo panati a 2,09 euro attivando il Lidl Plus, 300 grammi la confezione, pigiami per bambini, questo li troveremo all'interno del volantino a 8 euro, poi ci sono i taglio fresco prosciutto cotto 1,39 euro, i gran classici tortellini al prosciutto crudo 1,99 euro, plum cake classico 1,59 euro della mulino bianco e il detersivo di Xan in polvere 9,89 euro, 3,300 grammi la confezione. Spogliamo subito e qui troviamo la pagina frutta e verdura, macelleria e pesce, c'è l'uva a 1,99 euro al chilo, i funghi champignon a 1,39 euro, i mandarini satsman a 1,39 euro, questi non li ho mai provati, le susine a 1,45 euro, il lattuchino bio a 75 centesimi e queste qui sono le offerte per quanto riguarda la macelleria. Poi sotto prezzi c'è la mozzarella granarolo, 3 mozzarella a 2,59 euro, il taglio fresco salame di Milano 1,39 euro della Citterio, acqua minerale naturale, la bottiglietta da 500 ml 3,99 euro, ci sono 24 bottigliette, c'è la pizza, questa è buonissima, ital pizza 2,89 euro, patatine classiche amica chips 2,59 euro, l'omogenizzato della plasmon 3,19 euro, la tavoletta di cioccolato Milka, anche qui i vari gusti 2,59 euro, le barrette energetiche 2,19 euro, pan di stelle Mooncake con cacao 2,49 euro e il succo ACE o BCE a 1,29 euro, un litro e mezzo. In quest'altra pagina invece troviamo 4 bottiglie di detersivo per i piatti della Nielsen a 5,15 euro, il Finish Classic Tabs 8,79 euro e 100 pezzi nella confezione, ammorbidente classico felce azzurra 1,95 euro, bottiglia da 2 litri, il sapone liquido, spuma di champagne alla mandorla, questo è buonissimo, fa un profumo eccezionale, te lo consiglio, io lo prenderò, 300 ml e 99 centesimi, shampoo Elvive 3,99 euro, prenderò anche questo, 700 ml, poi 280 salviette della Pampers 100% riciclati 6,99 euro, 4 confezioni da 70 pezzi l'uno, la chiappa colore 40 fogli 3,99 euro, il Vicinet gel con canteggina a 1,69 euro, 800 ml, spuma di champagne, bagno crema 650 ml, varie profumazioni a 1,69 euro, qui troviamo le capsule, qualità rossa lavasta a 18,99 euro, 80 capsule, queste qui che sono crema e gusto classico a 18,99 euro e queste gusto forte a 16,89 euro, sempre 80 capsule, e qui in alto c'è il caffè in grani vivace e pellini a 10,99 euro la confezione, andiamo avanti, c'è il prosciutto crudo nazionale 2,29 euro, 90 grammi, la piadina romagnola 89 centesimi, pancetta coppata 1,79 euro, formaggio tomino classico 1,59 euro, i salamini classici con semi di zucca 2,49, specialità a base di formaggio alle noci 3,99, il vintage cheddar 2,99, straccetti di pollo fritti 4,99, 500 grammi, mentre qui in basso ci sono i tortelloni e i funghi porcini 1,79 euro, 500 grammi, il ravioli e il radicchio o lunette carciofi a 99 centesimi, i donuts 2,99 euro, in quest'altra pagina invece troviamo gelatino offerta 2,39 euro, il cono alla panna 2,19, skir alla frutta 1,39, succo di frutta solevita 1,39 euro, confettura a vari gusti 1,79 euro, cioccolato 69 centesimi, preparato per cappuccino 1,49 euro, caffè rosso 1,69 euro, i macaroon 3,79 euro, le sfoglie 1,39 euro, i ringo 2,09 euro, formato famiglia 330 grammi e i mini croissant ripieni con crema alla nocciola 1,11 euro, mentre qui c'è il lorzoro 2,29 euro, il grana roma gold 6,29 euro e il grana roma a 6,29 euro. Andiamo avanti, deo spray o rollona della boratalco a 2,69 euro, le lenticchie verdi 3,29 euro, da Dostar 1,99 euro la confezione, pesto di funghi o a base di zucca 1,79 euro, cappari all'aceto di vino 89 centesimi, ragù al bolognese 2,09 euro, tonno e fagioli 1,79 euro, olive verdi giganti 1,49 euro, riso basmati 2,99 euro, le patatine grigliate 89 centesimi e la panna da cucina a 69 centesimi. Qui invece c'è il chardonnay di Puglia 1,49 euro, strong beer doppio malto a 69 centesimi, la panta 79 centesimi, coca cola a 25 centesimi, crocchette per gatti 2,49 euro, ottima l'acqua micelare 400 ml 2,69 euro, è quella che utilizzo io ormai da anni, propoli, vitamina C compresse 2,99 euro, questa è ottima per rafforzare il sistema immunitario, shampoo e the shoulder 2,15 euro, barretta proteica al cioccolato 1,29 euro, idra bomb, maschera garnier 1,69 euro, crocchette per cani 10 chili. Quindi, proseguiamo, pizza in festa, wow, ok, queste sono offerte che partiranno lunedì, vediamo un po', base pizza napoletana 1,49 euro, ce ne sono due, base per pinza 3,49 euro, sempre due dentro la confezione, pomodoro pizzutello pelato 2,49 euro, salsa di pomodoro ciliagino a 69 centesimi, mozzarella di bufala 2,99 euro, stracciatella affumicata 1,99 euro, pasta per pizza 1,79 euro, pasta madre essiccata con lievito 1,99 euro, preparato per pinza 1,49 euro, lievito madre essiccato 1,39 euro, questo qui mi sa che lo prenderò, gorgonzola dolce dop 2,49 euro, bufali 2,49 euro. In quest'altra pagina, invece, troviamo i funghetti trifolati 3 più 1,4 euro e 19, carciofini a spicchi 1,39 euro, friarelli 1,99 euro, pomodorini e datterini gialli semisecchi 2,49 euro, aiuto, mix di verdure in olio di semi di girasole 1,69 euro, duia 2,99 euro, filetti di alice 1,99 euro, pomodori secchi alla siciliana o carciofini alla contatina 1,99 euro, birra 1,79 euro, olive nere a rondelle 99 centesimi, tovagliette e rotolo 2 veli 1,99 euro, pizza pala 2,49 euro, pizza margherita sesammano 2,49 euro, farinata di ceci 2,49 euro, gusto e benessere, queste offerte qui le metteranno giovedì 5 ottobre, ci sono le polpette vegetali al pomodoro, gusto classico 1,79 euro, mix di cereali precotti 1,49 euro, croc burger di lenticchie con zucco e pomodori secchi a 1,99 euro, crocchette di verdure con patate rosmarino a 1,99 euro, super affettato 2,59 euro della valsoia, questo sono curiosa di provarlo, affettato vegetale a 1,79 euro, burrata senza lattosio a 1,39 euro, scamorza senza lattosio 2,79 euro, queste sono tutte cose che io potrei mangiare, provoletta dolce o scamorza affumicata affette senza lattosio a 1,29 euro, lo stracchino senza lattosio 1,29 euro, qui invece troviamo i nuggets a 3,29 euro, la maionese vegetale a 1,99 euro, biorge, bevanda di riso, questo mi piace molto, l'ho già provato 1,89 euro, crema di ceci biologica 1,79 euro, ogni tanto mi si impalla, yogurt da bere senza lattosio, fragole e banana, 49 centesimi, burger valsoia 3,49 euro, cotolette vegetali 3,39 euro, plum cake senza glutine con farcitura all'albicocca, questi quasi quasi li provo 2,29 euro, muffin con frutti rossi 1,99 euro, li ho provati non mi fanno impazzire, yogurt intero senza lattosio 59 centesimi, qui giù ci sono le noci cashew 3,49 euro, la tavoletta di cioccolato fondente a 1,99 euro, queste sono delle novità, qui ci sono gli attiva coupon, le braciole di lombosuino a 3,85 euro, tomato ketchup 1,79 euro, formaggio 2,39 euro, cipolle rosse di tropea 2,49 euro, le mele sweet tango 1,69 euro, mortadella 99 centesimi, gamberetti 1,89 euro, gli anacardi questi li prenderò perché c'è una ricetta che voglio provare a 2,59 euro, dentifricio 2,69, gelati 2,09 euro, le patatine 99 centesimi e qui c'è la pagina dedicata al pollice verde per chi fortunatamente ce l'ha, ecco qui c'è Arnold che ci guarda, le offerte Parkside, qui scorro un po' più velocemente, se ti interessa guardarle meglio basta che metti in pausa il video, ci sono tantissime cose come sempre, queste le metteranno tutte giovedì 5 ottobre, ci sono tantissime cose, ok? Come mi ha scritto una ragazza l'altra volta sta praticamente diventando una ferramenta Lidl, va bene, ok? Vediamo qualcosa di un po' più particolare, da lunedì 2 ottobre troviamo il portavaso in ceramica con supporto a 20 euro, credenza con due ante a 89 euro, questa qui, poi c'è il mobiletto con due ante e due cassetti a 99 euro e il mobile tv a 89 euro, c'è anche un tappeto qui in basso, un attimino, eccolo, tappeto 22 euro e 99, qui a fianco invece troviamo pariurre copripiumino matrimoniale o singolo, matrimoniale 17 e 99, scusatemi, mentre singolo 12 e 99, lenzuolo matrimoniale 9 e 99, mentre singolo 6 e 99, cuscino laterale 12 e 99, completo lenzuola matrimoniali con il coupon 12 e 99, mentre completo lenzuola singole 12 e 99. andiamo avanti, sempre lunedì troviamo la federa per cuscino, due pezzi a 8 e 99, l'orologio da parete, molto carino questo, a 15 euro, ti danno pure la batteria, 7 mensole a cubo, 3 pezzi 18 euro, striscia led a batteria con sensore di movimento, bella questa, 5 e 99, coperta in mussola 18 euro, ci sono due colorazioni, altra federa per cuscino però più grande 8 e 99, cuscino 50 per 80 10 euro, occhiali per computer a 3 euro, candele profumate 4 9 pezzi con il coupon 2 euro e 49, qui invece troviamo i pigiami, maglia pigiama da donna a 6 euro, pantalone pigiama da donna a 8 euro, ci sono i pigiami anche per i bambini, per bambini 8 euro, oppure a 7 euro, dipende dall'età, maxi t-shirt da notte per donna a 10 euro, e le calze da donna a 2 paia a 2 euro, pantofole in feltro per bambini a 7 euro e accessori per capelli a 1 euro e 79, ci sono anche i calzini 5 paia a 3 euro e 49. Proseguiamo, altre offerte per i più piccini, sempre da lunedì c'è il pullover a 12 euro, il cardigan a 8, i leggings a 7 euro, maglia a maniche lunghe 2 pezzi a 6 euro, jeggings da bambino pantaloni a 5, pantaloni cargo a 9 euro, joggers e jeans da bambino o joggers da bambina a 6 euro, e completo vestitino e leggings da bambina a 9. molto molto carini, da giovedì 5 ottobre c'è il reggiseno sportivo medium level a 10 euro, felpa sportiva da uomo o da donna a 13, guanti fitness a 9 euro, calzini sportivi da uomo o da donna a 5 paia a 6 euro, pantaloni sportivi da uomo o da donna a 10 euro, maglia sportiva da donna a 12 euro, ovviamente in varie colorazioni, leggings sportivi anticellulite, 15 euro, shorts sportivi da uomo o da donna a 6 euro, e scarpe sportive da uomo o da donna con il coupon a 13 euro. Ci sono le super offerte del weekend che vanno dal 6 ottobre all'8 ottobre, ci sono le patate a 1 euro e 99, 2 kg, salsiccia aperte a tipo pantovano a 1 euro e 99, la bresaola a 1 euro e 69, l'acqua a ferrarelle a 1 euro e 68, 6 bottiglie, provolone valpadana a 2 euro e 29, le noci brasiliane 2 euro e 39 e qui di lato troviamo l'aspirapolvere multifunzione 1000 watt a 60 euro e il pulsossimetro a 15 euro. E questo quindi è tutto, sono tutte le offerte che partiranno questa nuova settimana. Dai, devo dire che c'è qualcosa di interessante rispetto alle settimane precedenti, fammi sapere ovviamente se ti fa cosa ne pensi giù nei commenti, io ti ringrazio come sempre di aver guardato questo video, ti auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivederti anche in un mio prossimo video. Ciao!